Tutti condannati, i cinque carabinieri, i protagonisti dello scandalo di Piacenza, dodici anni di reclusione per Giuseppe Montella, l'appuntato considerato il leader del gruppo della caserma Levante, che l'anno scorso, in pieno lockdown, venne chiusa dopo che emersero spaccio di droga, torture sui fermati, ma anche estorsione e rapine. Otto e sei anni rispettivamente agli appuntati Cappellano e Falanga, tre anni e quattro mesi al carabiniere spagnolo e quattro all'ex comandante di stazione Marco Orlando.